Lungo i 28 chilometri della 19esima edizione della Corsa per la Pace Napoli-Pompei, corrono soprattutto le idee di pace. Domenica 25 novembre torna l'appuntamento di Sport e Tradizione e lo fa ripercorrendo il viaggio che portò il sacro quadro della Madonna da Napoli a Pompei. La manifestazione organizzata dal movimento sportivo Bartolo Longo cade nel momento in cui si riapre la gravissima ferita che coinvolge soprattutto il mondo mediterraneo. La presentazione stamattina a Palazzo San Giacomo. Perché la pace è un elemento ovviamente che a 360 gradi interessa il mondo laico, il mondo cattolico e il mondo cattolico con la sua capacità di penetrare nelle coscienze deve portare all'interno delle comunità. Centinaia saranno gli atleti italiani ed internazionali fra cui i più competitivi atleti della Campania. Ma tradizionalmente la corsa colpisce soprattutto per i messaggi e gli striscioni di pace durante il tragitto e dall'arrivo. A significare la prevalenza del messaggio di pace su quello agonistico sportivo.